Solidarietà alla sindaca Silvia Marchionini e alla vice Marinella Franzetti. Alleanza civica, gruppo di maggioranza in consiglio comunale a Verbagna, interviene nella polemica che si è scatenata in città dopo il servizio delle Iene sulla denuncia della segretaria comunale Antonella Moglia. Il gruppo dell'assessore Giorgio Comoli stigmatizza le reazioni politiche e commenti apparsi sui media ma anche sui social. Unica voce che si è elevata in queste ore in difesa di Marchionini. C'è persino chi simbolicamente chiede al sindaco di fare un passo indietro e chi, pur avendo un ruolo in maggioranza nel consiglio comunale, sembra applaudire la manifestazione di indignazione. Insomma, emerge anche da noi un giustizialismo dei noi altri e la voglia di spargere fango, si legge nella nota. Siamo fiduciosi nella positiva conclusione della vicenda per l'amministrazione comunale e non condividiamo il metodo di approccio alla campagna elettorale di certo non utile al bene degli interessi dei cittadini. Ma sembra che il clamore non sia destinato a spegnersi in fretta. Per lunedì il candidato sindaco Gian Domenico Albertella con i segretari provinciali di Fratelli d'Italia, Lega, Salvini, Piemonte e Ferbani a Futura hanno convocato una conferenza stampa sull'argomento.